Musica Salve a tutti ragazzi qui TTT e benvenuti in questo nuovo video di One Piece Pirate Warriors 3 Andiamo avanti con la storia avventura nell'isola fantasma Probabilmente se non sbaglio questo dove c'è Moria, quella gente lì e soprattutto Brook Andiamo subito a vedere, vediamo se mi sbaglio o no sinceramente, andiamo Alla prossima Yohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Grazie a tutti! Oioi! 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 Eccoci finalmente qua! Oddio cosa succede la col fumo? Ah non sappiamo la strada! Ah ok! Buono sapersi! Vabbè ci sono meccaniche anche così in questo gioco! Perfetto! Non lo sapevo ragazzi quindi sono un po' felice di questo! Almeno cose nuove no? Non sappiamo dove muoverci all'incirca! È figa la cosa! Alla fine è figa perché non sappiamo realmente dove muoverci visto che è nascosto! Sappiamo solo che vengono conquistate le basi! Solo che non so dove! Vabbè andiamo in giro vediamo un po'... Il capitano dei pirati raggiunge al... Ah ricongiungiti alla ciurma e fuggi dalla foresta perduta! Ok! Non è un problema! Lo faremo! Lo faremo! Ah! Sono solo con Brook! Ok! Va bene! Vai Brook! Tutto tuo! Ok! No! Mi sa di no! I zombie! No! Non so niente! Scusa! Vabbè! Lasciamo perdere! Lasciamo perdere ragazzi degli zombie! Eh! Dove devo andare? Oh! Salve! Aia! Mi hai fatto male! No! Beccati questo! No! Beccati questo! Perfetto! Vieni qua! Eh! Speravi! Speravi! Lo so! Eh! Non sto capendo dove sto andando però! Quindi vado a random! L'unica cosa che so è... Sono sull'isola! Vai! Eliminiamo tutto perché non so niente! Che bello! Che bello sapere queste cose! Ok! Quindi! Uh! Là c'è! E' mio! Ma... Non sto capendo! Non sto capendo dove devo andare! Eh! Questo è nostro come posto! Vabbè! Prendiamo i tesori! Non ho capito dove devo andare! Devo esplorare un po' mi sa! Vabbè! Proviamo ad esplorare! Vediamo che succede! Ecco qua Robin! Finalmente ne abbiamo trovato almeno una! Ciao Robin! Salve! Salve! Ciao Robin! Quindi... Meno male state tutti bene! Io non ho visto nessun altro oltre a te! Ah no! Ok! No! È un capitano dei pirati! Oh! Moria! Ma che ci fai qua? Salve! Oh! Aiuto! Non rompere! C'è l'evento tesoro! Quindi probabilmente lo dobbiamo eliminare! Ah! T'ho stunnato! Eccolo è Moria eh! Infatti! Giacomoria! Eccolo qua! Che però ci saluta probabilmente già! In effetti! Moneta ottenuta! Perfetto! Ciao ciao Giacomoria! Sei... Forte! Kishishi! Quello... E' un mio doppelman! Zombie! Giocate pure con loro! Ok! Gli zombie! Wow! Quando... Quando uno... Quando uno pensa a tutte le robe dove potrebbero essere degli zombie! Ah! Ma proprio nascondo al terreno! Eh! Ci sta eh! Ci sta! Moria! Vieni fuori! Eeeh... Gear 3rd? Sì! Gear 3rd! Vai! Gomu Gomu no! Ah! Ne becco pochi! Ah no! Li ho eliminati! Ok! Va bene! Come non detto! Puff! Ah ah! Ah ah! Salve! Buongiorno! Eeeh... Eliminati! Ah no! Devo conquistare! Sì! Vabbè! La pecca è questo! Eeeh... Salve! Tieni i pugnetti! Ah ah! Crepate! Crepate tutti! E dai! Peggiore combo del gioco! La vado a usare solo io! La vado a usare solo io! Veramente! Oh! Territorio conquistato! Va bene! Possiamo cambiare quindi! E tipo sperare! Eeeh... Eeeh... La faccia ci stava sinceramente! Ciao Perona! Ciao! Vabbè sono qua per menarti lo sai eh! Volevi! Volevi sinceramente! Non ha senso sprecare la Kizuna Rush a sto punto! Sei... Debole! Molto debole! Oh! Dobbiamo potenziare Frankie! Vabbè! Lo facciamo subito! Ah! Sono beccata male! Dai! Dove scappi! Oh! Finalmente! Oh! Grazie! Naso è negativo! Fidati di me! Nella vita! No! Ho perso il discorso! No! Naso è negativo! Cos'è successo Brook? Hai problemi? Oh! Zoro! Eccolo! Oh! Finalmente! Anche Zoro! Ce l'abbiamo! Ok! Missione riuscita! Si è aperto qua! E ora dove andiamo? Carne! Odr! Ok! Buongiorno! Buongiorno! Oh! Finalmente si è aperto tutto! Possiamo andare ragazzi! Che strana voce! Cosa sarà? Non lo voglio sapere! Sai! Ah! Buongiorno! Ok! Dobbiamo eliminare già così a random proprio! Instant 3! Mamma mia! Vabbè! Io direi di usare un po' la special normale su chi non abbiamo potenziato! Ecco! Franky! Vai! Franky ha potenziato un po'! Ok! Dobbiamo eliminare tutti! E dobbiamo andare al castello Moria di Moria per trovare la mia ciurma! Ok! Lo faccio eh! Non è un problema! Mamma mia come l'ho sprecato! Oddio sono anche caduto! No! Mi ha potenziato un po' la schella maggiore! Cosa hai da! Ma mia come l'ho spettato! Mugiwara che ha potenziato un po' il E' la madre di Moria. È la madre di Moria che la madre di Moria, E witnesses! E'Rim史. Lui. E'Rim史. Sì, OZ, è il primo lavoro! Eccolo! Questo grandezza è la sua vita! Quali ciò che ha avuto un po' di più. Il fatto che un po' di più di più, è un po' di più di più. È davvero bello. Ok come lo attacco io Ah ok arriva giù col pugno Ah ok posso menarlo Cosa non sto capendo sinceramente Ok Ah ok da qua ok va bene ho capito sto capendo Non lo si può attaccare sempre il punto debole però non Ah se n'è andato Ah ok Salve Ho saputo che c'erano problemi No ok Stavo per tirare Il gear third ma non dovevo in realtà Ok Brooke so che avevi dei problemi Ti ho liberato ok Ora però dove Dov'è quel pazzo Dr Che poi non ho capito bene il nome Ma vabbè Mi ricordo che c'era ma non mi ricordo il nome ragazzi Scale 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 Dove sono le scale Come ci risalgo io sopra Cioè è un punto morto Ok punto interrogativo Ah là Va bene andiamo al punto interrogativo ragazzi Rieccolo Ciao Aia Non osare Ok Con calma Ok ma la testa Gli faccio più danno No ah non cambia Oh Calma Il sangue freddo E va Come mi hai preso Come mi hai preso Ok te ne vai di nuovo Va bene Si ritira Ok Sembrano degli orchi Potete andare avanti voi Ecco grazie E già siete lentucci Sapete Grazie Frankie per il ponte Andiamo avanti ragazzi Dobbiamo andare a sconfiggere tutti Salve Ma va Frankie Dai per favore Ah è là sopra Perfetto Ok Allora sono pronto Andiamo a combattere Proprio lei Salve perona Eccomi Perfetto Girlford Dovremmo prenderla Vecchiamola Boom Oh E ha fatto Ma Ha fatto male No Peccato che ora siamo in modalità inutile Ma ha fatto male Lo so Eh No No L'attacco negatività Aiuto Ok No Non rompere Ok Dai Che in poca vita Dai Oh Finalmente Ce l'abbiamo fatta Va bene Lei è morta Un discorso Vediamo Allora Non rompere Non rompere Non rompere Non rompere Non rompere Perfetto Dovremmo con Guardare Voglio Non rompere Non rompere Nenyo Orse Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma è stato un po' troppo facile, sinceramente, per ora. Troppo facile. Perfetto, eliminato. È stato troppo facile, con tutta la sincerità. Troppo. Devo vedere Moria. Ok. Quindi devo andare anch'io da Moria, no? Ah, ok. Evento tesoro, vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ah, ed è tornato di nuovo Odder. Non lo so dire. Solo che non so come andarci.